Il governatore a tutto campo nella trasmissione i fatti e le opinioni condotta dal nostro direttore Carmine Perantuono. Il presidente uscente della regione Abruzzo e ricandidato alle prossime elezioni Marco Marsiglio ha parlato di trasporti, delle frizioni con la Lega, della data delle prossime regionali probabilmente a marzo, dando un in bocca al lupo ad Amico, suo contendente candidato e sulle liste svela Campitelli merita la ricandidatura, non solo rispondendo alle domande del direttore del centro Piero Anchino e del direttore di Reteotto Carmine Perantuono parla ancora di altri temi, l'aeroporto, le scuole, le strade, l'ambiente, i camper itineranti della salute tra bilanci e progetti, in particolare si rivolge all'avversario Luciano D'Amico. Lei pensava a una soluzione più politica e magari lei dirà che sono fatti degli altri e non vuole entrare nel merito, però si è fatto un'opinione ovviamente in merito e mi interesserebbe conoscerla. No, io faccio i miei complimenti alla coalizione di centrosinistra che ha trovato molti mesi di anticipo, non succede spesso, l'ho fatto presente ieri dentro una riunione di maggioranza in consiglio regionale, ho detto non dormite sugli errori, c'è un clima che ci dà per favoriti, d'altronde insomma il presidente uscente ha una posizione di partenza di vantaggio, ho detto ma sarebbe veramente sbagliato pensare di avere in tasca la partita e gli avversari si sono organizzati bene e per tempo, quindi in bocca al lupo a Luciano D'Amico, è compito nostro fare del nostro meglio, costruire il consenso intorno alle cose buone fatte senza pensare appunto che si sia già vinta una partita, le partite vanno giocate fino in fondo, mai sottovalutare gli avversari. E sulla candidatura con Fratelli d'Italia del dissidente del Carroccio Nicola Campitelli, già assessore regionale? C'è una dichiarazione del portavoce regionale della Lega sicuramente di un paio di giorni fa che dice verso le regionali con un clima positivo e gioco di squadra, risultati positivi certi ma attenzione però ai furbetti dell'ultimo minuto. Si legge, a coloro che in forza della fiducia degli elettori e delle comunità politiche che lo hanno eletto ha ricoperto ruoli apicali in questo mandato, assunto su di sé responsabilità maggiori rispetto ad ogni altro eletto e pertanto non avrebbe dovuto mettere in cattiva luce la credibilità dell'intera coalizione, la Lega rispetta i propri impegni di coerenza, però non accetterà nessuna di queste candidature in nessuna delle liste. Mi sembra un ultimato, Presidente. E' un'opinione rispettabile, poi ogni partito credo che abbia la libertà e conserverà la libertà di candidare chi ritiene, quindi non pongo io vedi e ne ultimato ma che forse potrei essere in ipotesi l'unica o tra le poche persone che si possa permettere questo lusso e questo privilegio. Campitelli verrà candidato? Io credo che tutti i membri dell'Aggiunta e tutti i consiglieri uscenti hanno fatto un grande lavoro, hanno raggiunto grandi risultati ed è giusto che si sottopongano al giudizio degli elettori e che contribuiscono alla vittoria complessiva della squadra.